Nelibasket.it, Pelle Mazzoni, Pelle ha fatto una beffa, anche se comunque deve essere onesti in Ravenna e eliminare un bambino questa sera. No, sicuro, Ravenna ha meritato, noi non siamo stati solidi come al solito e l'abbiamo pagata. Noi siamo una squadra che deve sempre giocare concentrata, solida, a tosta in difesa, altrimenti facciamo fatica. È una realtà questa e dobbiamo avere questa consapevolezza. Loro sono stati bravi a fare la partita e alla fine sono stati bravi anche a fare quel canestro, quasi lo scadere, che l'ha deciso. Dai, dispiace perché insomma avevamo una bella opportunità, però questo potrebbe anche essere un bel bagno di umiltà per tutti noi, per metterci qualcosa in più, per seccare di crescere. Questo arriva in un ciclo terribile, che è una partita veramente impegnativa. Treviso e Brescia? Ma sono tutte impegnative, sicuro. Treviso e Brescia in casa sicuramente sono due squadre che lottano per l'alta classifica, due squadre costruite per vincere. Però insomma noi al di là del calendario dobbiamo crescere, continuare a crescere come stiamo facendo come squadra, senza guardare troppo al calendario e alla classifica. Grazie.